Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per materiali dispersi, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assegna in direzione Mare, code in uscita a Lastra Assegna. Sulla Accordo Siena-Firenze per lavori in entrambe le direzioni, rallentamenti tra San Casciano e l'allacciamento per la A1. Chiudiamo con la viabilità cittadina a Firenze. A causa del crollo avvenuto questa mattina in un cantiere via Mariti è chiusa via del Ponte di Mezzo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!